I carabinieri hanno eseguito 10 misure cautelari, 4 delle quali in carcere e 6 ai domiciliari tra la provincia di Enna e Busto Arsizio del Vare Sotto nei confronti dei responsabili di una maxi-rissa scoppiata a Barra Franca in provincia di Enna il 12 settembre scorso. Due famiglie, al culmine di alcuni dissidi, si sono affrontate con spranghe, mazze da baseball e coltelli. Almeno 5 persone hanno riportato fratture, lesioni da taglio e contusioni. Durante la rissa sono state danneggiate numerose vetture parcheggiate nei pressi. Le manette sono scattate per Salvatore Strazzanti, 41 anni, di Barra Franca, Andrea Ferreri, 49 anni, Giuseppe Bellomo, 56 anni, Giovanni Bellomo, 54 anni, residente in provincia di Varese. Tutti progiudicati come Luigia Bellomo, 35 anni, che è stata a poste domiciliari insieme ad alcuni giovanissimi e incensurati, tutti residenti a Barra Franca. Grazie. Grazie. Grazie.